Ciao amici del Bar del Baseball, di nuovo qui a fare il preview della tredicesima giornata del campionato di baseball non vedenti. Il 24 giugno fra l'asse Milano-Firenze si giocheranno in tutto quattro partite. Allora, al Kennedy ci sarà il derby milanese fra i Lampi Milano e i Thunder Spy. Lampi Milano già qualificati per la Final Four e quindi potrebbero giocare anche in modo più rilassato. Invece i Thunder Spy sono sempre alla ricerca della prima vittoria stagionale e naturalmente vorranno staccarsi da quell'undicesimo posto che per la squadra che è non gli compete e per la squadra che è stata in passato perché ha vinto più di tutti in IBXC. Invece a Firenze apriranno le danze la Fiorentina-BXC contro i Bologna-White Sox, due compagini che non saranno presenti alla Final Four quest'anno e che cercheranno di concludere in bellezza la stagione. La Fiorentina vorrebbe rafforzare il quinto posto e i Bolognesi cercheranno di risalire al settimo posto. Invece la sfida clou della giornata è sempre a Firenze, Patrini Malnate e Romar Blinds, che sono al momento al primo e al secondo posto. I campioni d'Italia cercheranno di allungare e concludere il loro campionato senza una sconfitta. Invece i vici campioni della Romar Blinds vorranno tentare il colpaccio di avvicinare i Varesotti. e magari cercare di sopravvanzarli. Invece l'ultima partita della giornata a Firenze sarà fra gli Staranzano Ducks e gli Umbria Raskins. Gli Staranzano vorranno sicuramente cercare di riscattare le due giornate disastrose del weekend passato contro la Leonessa Brescia e i Lampi Milano. Invece i Umbria Raskins è una nuova compagina che vorrà portare a casa un altro risultato, una vittoria. Bene, con questo è tutto. Buon baseball a tutti e a risentirci da straining. Grazie a tutti.